Indiana Pacers è l'inizio della fine o la fine dell'inizio? La stagione dei Pacers è stata un enorme successo, quel che viene da domandarsi è però se è trattato di un exploit agli Atlanta Hawks di qualche anno fa o possono essere una realtà tra le top 4 del prossimo Futuro ad Est? Parliamone ora. Sigla! Ciao a tutti ragazzi e bentornati su NBA Revavazon, io sono il Franz e prima di cominciare come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per supportare questa mia passione. Lasciare un like e un commento aiuterebbe molto questo canale a crescere ancora con la promessa di un'estate scoppiettante. Altra squadra eliminata, dunque altro video. Oggi parliamo degli Indiana Pacers, squadra che ha stupito in questa stagione anche se le avvisaglie in realtà c'erano già da quella scorsa quando prima dell'infortunio di Tyrese Alliburton erano quarti ad Est per poi precipitare senza la loro stella. Certo, uscire con uno sweep seppur contro i Celtics brucia, ma in tre partite su quattro la serie è stata comunque molto equilibrata e in almeno due di queste l'hanno proprio buttata nel cesso loro. L'infortunio di Tyrese Alliburton ha poi fatto il resto. Terminano la stagione con il secondo miglior attacco dietro proprio a Boston e una delle peggiori difese, almeno in regular season. Qualcuno potrebbe dire che si è trattato di una run fortunata, con le assenze di Yannis, poi di Lillard, poi di Anunobi, successivamente di Hart e infine di Branson. E questo apre a molteplici dubbi su questa squadra. Una squadra unica nel panorama NBA per i ritmi che impone, per il numero elevatissimo di advanced pass, per il modo in cui si passano tutti il pallone e per le peculiarità di un roster composto da ottimi atleti, qualche giocatore esperto e un coach di comprovata fama e rispetto. Eppure la sensazione che si sia trattato di fortuna è tanta e molto diffusa. A parere mio, contro questi Bucks, anche se al completo avrebbero potuto vincere lo stesso, mentre contro i New York Knicks al completo quasi certamente no. Di certo han sorpreso contro Boston. Paradossalmente, nonostante il 4-0, sono sembrati molto più avanti rispetto a quel che si potesse pensare, proponendosi come squadra pericolosa nell'immediato futuro. La sensazione è che abbiano perso per decisioni rivedibili nei momenti cruciali di partita. Chiamiamola esperienza. In particolar modo in gara 3-4 una quantità di palloni persi esagerata è una selezione offensiva dei possessi alquanto rivedibile. Se contro dei Knicks meno mati puoi puntare su Siacam in isolamento, contro i Celtics assolutamente no, e Siacam è stato pessimo nei quarti periodi di tutta questa serie. Partiamo con il dire che al prossimo draft i Pacers hanno zero scelte al primo giro, un po' come zero titoli, e dovranno affrontare la free agency di Pascal Siacam e il rinnovo di Obi Toppin, giunto al termine del suo rookie contract. Sarà restricted free agent. C'è da confermare ovviamente il contratto di TJ McConnel, amichevolmente soprannominato McMerdle, che ha un contratto per l'appunto non garantito. E c'è da pensare anche all'imminente scadenza di Mike Sterner, che invece entra nel suo ultimo anno di contratto. Sulla player option di Jalen Smith non mi pronuncio perché non ha giocato un minuto in postseason e probabilmente non è nei programmi futuri di franchigia. Rifirmare Siacam è la priorità dell'offseason, ma che cifre? Quasi certamente il max, il che pone Indiana in una situazione piuttosto intricata, poiché a roster avrebbero due max contract, Ali Burton e Siacam, e parecchi roleplayers. Approcciano ad un offseason in cui non ci sono grandissimi nomi liberi, Lebron e Paul George se non dovessero esercitare le loro opzioni. Per PG tra l'altro sarebbe un bellissimo ritorno a casa, ma non credo che Indiana sia disposta ad offrire un contrattone a un 34enne che non può giocare al ritmo a cui giocano questi Pacers. Ovvio, sarebbe una presa che potrebbe portarli a competere ad est, quantomeno a livello di star power, ma non sono così sicuro possa essere ottimale sul lungo termine. Ci sono poi squadre che per Paul George possono offrire molti più soldi, come ad esempio Philadelphia. Il GM dei Pacers ha garantito attività sul mercato, ma per chi? Cosa servirebbe a questi Pacers per confermarsi a questi livelli? Ditemelo voi, perché personalmente faccio molta fatica a pensare ad un giocatore che possa servire per colmare i punti deboli senza però snaturarli. Se andassimo a vedere l'andamento stagionale, servirebbero presenza nel pitturato e ulteriore protezione al ferro, un prototipo però difficilissimo da scovare in questa finestra di mercato. Vado quindi giù pesante, qualsiasi presa non li confermerebbe comunque questi livelli. Purtroppo credo che la novità di questa stagione sia destinata a rimanere tale per diversi motivi. Prendi Paul George? Temo se tu sia costretto ad abbassare di molto il ritmo e giocatori come Nesmith, Topping, Shepard, Nambard e lo stesso Aliburton secondo me ne risentirebbero. Chiaramente avresti come detto maggior star power, ma torneresti in qualche modo a giocare ad un ritmo più blando e in un modo molto meno imprevedibile dell'immensa imprevedibilità che hanno avuto i Pacers nel corso di quest'ultima stagione, che è stato senza dubbio il loro punto forte. La situazione non è quindi così rosea come si potrebbe prevedere per una squadra molto giovane e che è appena arrivata alle Conference Finals. Il pericolo Atlanta Hawks per me è assai realistico, soprattutto se dovessero muoversi sul mercato New York Knicks, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavs e Orlando Magic e sicuramente queste quattro squadre faranno qualcosa. Insomma, non è tutto oro quel che luccica si direbbe, ma Carlyle è un allenatore che può darti garanzie di playoff e di ulteriore crescita, pertanto mi fermo qui e lascio a voi la domanda. Dove possono arrivare questi Pacers nei prossimi anni? I vostri commenti verranno discussi anche in live non appena mi sarà possibile tornarci ragazzi. Ovviamente commenti pertinenti, fatemi sapere la vostra e come sempre un saluto dal Franz.